Ciao orsacchiotti, ho deciso di chiamarvi così in questi video oggi, tutti i giorni vi chiamerò così. Ciao orsacchiotti, oggi saremmo in questo video dove vi farerete a chiedere un esperto, no, un esperto, una stia, un uomo, un esperto passo. Ecco, così mi sentite meglio, invece di fare sempre questa bardoria con questo suono, quindi io chiudo il volume, mi sentite perfetto perché è più meglio fare così. Quindi ragazzi, io vi chiedo che siete i più belli di questi video che sto facendo io perché siete veramente, siete i più belli, vi amo. Se siete i miei fan dovete iscrivervi al canale e lasciate like a questo video per forza. Allora, come sempre noi abbiamo visto che in questi giochi sarebbero cose che vi piacciono, no? Se votate, votate i giochi voi. Quindi, se voi sapete, Roblox ha detto sempre di votare i giochi, se vi piacciono, se non vi piacciono, se vi fate i cavoli vostri, se lo segnali. Fate tutto quello che volete i giocatori di Roblox perché è giusto. Io vi dico il perché. È giusto il motivo, la mia tv si è messa, si è accesa da sola, è un mostro sta tv, vi devo dire. Sì, è un mostro. Grazie, è un mostro. Grazie tv, non ti accendi più perché se no ti do due schiaffi nel colettino. Quindi. Questo andrà bello veloce. Oh, 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 oh. Guardate, io qua, l'altra volta, nella parte 2 che avevo detto nel video, abbiamo superato il limite, era bellissimo. Ehi, vabbè, mo superiamo veramente il limite. Prima andiamo a 9, a 8, perché queste qua sono dettagli prima. Prima dobbiamo vedere i dettagli dei giochi. Ok, vedete, vedete. Vroom, vroom. Polizia. 20 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Frena! Oddio, avete visto? Avete visto? Mi ha tolto mezzo cuore. Però, però io sono desist... Minimamente, era bellissimo, però ho superato 30 e non ha frenato il kart. Allora, il kart è meglio che è caduto, perché se voi sapete, se no, poi ci dobbiamo mettere ad esplodere. Noi ci mettiamo un'ora e mezzo. E vabbè, sì, muo il kart non so se ne è più. Lo vedete là, sotto del generatore, dove è acceso il verde. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Salti, ste kart, tua donna. E vedete, saltano, saltano. Io non vi dico bugie, ma saltano. Ora voliamo, voliamo! Volevo, guardiamo. Un salto. Avete visto? Abbiamo volato tra poco. Però, ragazzi, dobbiamo fare questa cosa del limite, perché se no, non vale. Noi dobbiamo superare il test di polizia del limite 10, perché lei ama il 10, vuole non essere rispettato, non vuole che proprio non lo superiamo. E noi dobbiamo superarlo, ragazzi. Non possiamo sempre andare come dei nabbi su Roblox. Quindi dobbiamo andare veloci, veloci, svelti, ragazzi. Dovete essere svelti, anche voi. Nei compiti. Vabbè. Anche io li faccio i compiti, non è che vi prendo in giro, però. Allora. Ok, guardate. L'artista di Roscella. Ma qua non c'era Giardossi. Ah, qua ci sono, meno male. Perché mi mancavano troppo, eh, sapete? Io so fare le voci espressionate. Oddio, ma quanto stiamo andando, direi. Cioè, stiamo andando a 200 tra poco. Cioè, ho superato 20, ma... Ci mettiamo a fare i pazzi? Ok, grazie. Ok. Ok. Mettiamoci a superare il limite. Posizione partita. Dobbiamo superare bene, però, il limite. Eh, ci sta beccando, però. Vedete, ci ha beccato. Oddio. Avete visto? Avete... Oddio, abbiamo superato il limite senza che... Che lei ci toccava. Ma non siamo dei pro, ragazzi. Voi vi dovranno... Io mi chiamerei pro, invece che... Perché Roby è una... Una youtuber che ha... Che sa il piotti là. Quindi io mi chiamerò pro! Ciao, pro! Oggi... No, adman... Adman... Che vuol dire? Vabbè. Mettiro un po' indietro. Così quando è verde, scatta il verde. E vum, vado. Ok, scattato il verde. Partiamo! Veloci! Vum, vum! Dov'è essere svelti. 12, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28. Noi siamo velocissimi, ragazzi. Voi lo dovete dire nei commenti. E vabbè, ma dai, non vale! Non vale, non vale, non vale, non vale, non vale. Guardate come ce la sta facendo! Cioè non tanto. Stanno andando a zero, un atto. Prendiamo il volo, pure si sta crollando, che tanto non c'è problema, perché il crollo non è tutto il ponte, infatti. Solo il ponticello piccolo, quindi sono calmi, non avete paura. Pum, ok, ok. Avete visto? Ce l'abbiamo fatta! E lui, e Vincenzo magari dirà che lui non riuscivamo, non lo so. Vabbè, però ce l'abbiamo fatta, eh? Perfetto! Voi? Guardate come va, come va! I soldi, mo' siamo ricchi, ragazzi. Ma qua si alza il binario, qua si alza. Si alza il binario, avete visto? Guardate come si alza. Uh, avete visto? Si stava per alzare veramente il binario. Ok. Pura shampoo, pura da 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 da, quella soldi, eh? Pura shampoo, pura da 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 da, parati tu. Vabbè, è bellissima quella canzone, però, eh? Volevo dire, lasciate like perché è bellissima. Guardate, la ruota stava andando in alto E io l'ho perso Avete visto? Che genio La canzone è bellissima quella Io l'amavo da piccolo Quella canzone soldi L'amavo Frenna, frena, frena Più che puoi Che se no Faccio così, faccio così Pianissimissimissimo Arrivo al bordino Piccolissimo Arrivo al bordino Piccola Ok È verder Sì, è verder Potremmo partire Io mi sto zitto, non parlo più Mi sembrava che non parlavo più Mi sembrava Dove c'è parlo sempre? Sono una radio Sono una radio Ti canto la canzone in mania Oddio, avete visto la ruota di Lala La ruota maledetta L'avete vista la ruota maledetta? Scrivetelo nei commenti se l'avete vista Aggiungerò i commenti in questo video, lo sapete Ok, sì Però c'è l'era un po', eh Io mi bevo un po' di Coca-Cola Che sono Con la Coca-Cola oggi Guardate la Coca-Cola Ok Eccomi Sto andando piano perché Allora 7, 8 9 Dai 9 Oh, ok Lui stiamo andando a 9 E lui stanno andando piano Nessuno Dami Marevole Oddio Ma Cosa vuol Aio Oddio Ma che vuol dire? Lo state vedendo Ma è bellissimo No, vabbè Arriveranno alla fine in questo modo Vabbè Non succede niente al kart Perché lui è sempre così Però My God Cioè Io non lo sapevo Un attimo Un attimo Ma cadremmo? Io accelerò più che posso In questa velocità Perché È il mio dovere Sto per accelerare Vai 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 No No Allora ragazzi Io non voglio dirvi questo Però Continuerà la parte Continuerà la parte Quanto Ciao Ciao